Benvenuti a un nuovo video di Sessi Italiano, buongiorno a tutti quanti, oggi torniamo a parlare di EwiLink che ha sviluppato una nuova dashboard, piattaforma web molto utile e interessante da poter usare negli iPad o nei tablet per poterli mettere a muro e gestire tutta la domotica da un tablet. Andiamo al video! Grazie a tutti! Allora, come vi dicevo, EwiLink aveva già fatto la piattaforma web per gestire i dispositivi adesso però ho fatto anche un'altra piattaforma che si chiama Cast, EwiLink Cast che consente di crearsi una propria dashboard, e anche più di una distribuire i dispositivi nella dashboard come a nostro piacimento e anche un minimo di personalizzazione e ancora è versione beta però, diciamo, è abbastanza personalizzabile il colore, si può mettere la data, il meteo, il calendario e poi i vari dispositivi sono supportati quasi tutti i dispositivi per ora ho visto che l'RF Bridge non è supportato però sono supportati questi dispositivi e poi questa dashboard che è raggiungibile via web la potete aprire su un browser in un tablet e mettere il tablet a muro quindi fare la vostra plancia di gestione domotica adesso andiamo a vederla Allora, come vedete, andando su web.wilink.cc accedete alla piattaforma, quella già disponibile a tutti diciamo, qua dovete mettere la vostra regione poi fate la login con il vostro account e wilink ovviamente questo vale per chi ha dispositivi sonoff e l'app e wilink già registrata con i dispositivi sopra l'unico problema è che per accedere a Cast, alla piattaforma Cast ci vuole l'Advanced Plan poi in descrizione vi metterò il link per passare all'Advanced Plan l'Advanced Plan costa 9€ l'anno quindi non è neanche tanto però vi dà molte cose oltre alla possibilità di integrare e-wilink con i FTT vi dà anche la possibilità appunto di usare questa plancia che vi farò vedere, è veramente utilissima perché potete gestire i vostri dispositivi da un qualunque tablet magari messo a muro ecco, facendo la login in questa piattaforma voi avete la piattaforma normale di gestione dei dispositivi questa credo sia disponibile a tutti anche a chi non ha l'Advanced Plan e qui vedete tutti i miei dispositivi già io da qua li potrei accendere e spegnere per esempio qui in camera da letto ecco vi faccio vedere come vedete quello è un faretto che è gestito da una placca domotica sempre wilink e dovrebbe essere questa qui in luci cameretta vedete il faretto e i dischi sono accesi adesso lo spengo da qua e lo posso spegnere e accendere da qua quindi dall'interfaccia web e wilink già qua voi avete qui però questo chiaramente non è una plancia personalizzabile questo è solo l'elenco dei dispositivi e potete comandarli dal vostro pc ciò che è di nuovo se vedete qua c'è scritto cast beta se voi andate in cast beta vedrete che io ho già fatto una mia plancia ma adesso la possiamo anche eliminare e ne creiamo una nuova che vi faccio delete vi trovate in una situazione del genere quindi praticamente senza plancia dovete creare la prima vostra plancia quindi cliccate sul più decidete quali dispositivi vi volete aggiungere noi li aggiungeremo tutti poi vi spiegherò uno per uno che dispositivi sono ho anche una telecamera quindi potremmo vedere anche la telecamera questi dove avete testato porta per esempio è un sensore è un sensore porta porta finestra poi potete anche aggiungere delle scene io ne avevo già preparata una per il test i charts purtroppo non li possiamo mettere perché io non ho un POV un Sonoff POV il Sonoff POV è un dispositivo che serve per misurare oltre ad accendere e spegnere una luce o un forno o un qualunque carico vi dà anche il grafico dei consumi quindi quanti watt consuma in tempo reale purtroppo io non avendo ne uno non lo posso aggiungere però avreste qui sotto il grafico dei consumi in settings potete scegliere il colore della plancia proveremo a scegliere un colore tipo questo per esempio se vogliamo possiamo mettere un pin code quindi in modo tale che quando apriremo la plancia ci chiede un pin per ora non lo mettiamo e poi diciamo anche di farmi vedere il calendario e il meteo ovviamente io devo mettere però la mia città e metterò room Italy Italy Ratio anche se qua viene una testate spero che prenda che Italy il nome del cast lo chiamiamo set YouTube il nome della plancia test YouTube facciamo salva una volta che l'abbiamo creata mi copio questa URL che è la URL proprio della plancia e la vado a incollare in una nuova finestra immaginate che questo Mac sia un tablet se io adesso metto in schermo intero quindi con F10 se non sbaglio allora innanzitutto facciamo la login anche qua quindi Italy il nostro account è with ink e mi dovrei trovare qui la mia dashboard che ho appena creato eccola qua la vado ad aprire quindi se adesso metto schermo intero quindi function F su Mac penso io neanche lo sapevo va bene in questo caso comunque c'è la barra di Chrome però esistono dei browser kiosk ad esempio sul tablet poi ve ne faccio vedere uno che vi permette di mettere tutto a schermo intero e quindi non avreste più neanche la barra di Chrome come vedete questa è la mia plancia quindi da qui io posso innanzitutto la telecamera la devo attaccare prima di attaccare ve la faccio vedere ecco questa è la telecamera come vedete me l'hanno mandata è carina perchè è anche calamitata questa la potete calamitare dove volete voi se c'è del metallo è molto carina è molto piccola questa si può staccare da qui dal supporto adesso vi faccio vedere come se io questa la stacco qui c'è l'audio quindi è l'audio a due vie qui posso mettere la scheda SD per salvare i video della telecamera adesso questa la andremo ad attaccare e la andremo a mettere in una provvisoria a me come qua perchè vi faccio vedere come può essere usata anche la possibilità di monitorare lo stato di un dispositivo siccome io qui su lo cavo condizionatore come vedete c'è un sensore porta che l'ho messo per capire se mi sono io posso anche monitorare l'espositivo nel senso se non è capito dal sensore se ha aperto la letta posso usarla per monitorare l'espositivo ora vi faccio vedere la telecamera si dovrebbe essere collegata ok ecco io per esempio l'ho messa a conto il condizionatore perchè io posso monitorarlo ma in realtà non è che lo monitoro così cioè c'è sull'app WeLink ora vi faccio vedere cosa intendo se io apro l'app WeLink vado qua vedete qua c'è la cam slim se io vado su stato KELON che è diciamo il sensore che ho messo qui in alto vedete c'è l'icona di una telecamera se io clicco su quest'icona gli posso dire ok usa quest'icona per monitorare lo stato di questo dispositivo quindi cosa vuol dire che se nel caso il dispositivo non ha risposto quindi il sensore porta non ha risposto alla chiusura e all'apertura posso comunque monitorare lo stato del condizionatore da qua e capire se è acceso o spento io perchè l'ho messo sul condizionatore ma lo posso mettere anche contro una porta quella telecamera e monitorare lo stato e diciamo sorvegliare casa quindi adesso la vado a spostare e la vado a mettere da un'altra parte per esempio la posso mettere per sorvegliare casa vabbè l'ho spostata un po' mi sorveglia casa io adesso l'ho messa a terra la posso mettere tranquillamente su un mobile o dove voglio io ok e quindi questa è la dashboard come vedete qui avete le scene questa scena l'avevo preparata io che dovrebbe accendermi o spegnermi qualcosa non mi ricordo cosa vediamo come vedete mi accende o spegne i dischi della mia cameretta dischi chiamo dischi sono i faretti che ho qui ai lati ok questa scena a cosa serve la scena perché io ho fatto con l'RF Bridge che vi faccio vedere qui se vedete l'RF Bridge io ho anche l'RF Bridge praticamente con un con un telecomando qualsiasi l'RF Bridge è questo dispositivo qua che cosa fa questo dispositivo questo dispositivo in pratica memorizza il pulsante di un telecomando RF a 433 MHz ok e grazie a questo telecomando vedete io posso accendere e spegnere una una luce che in realtà è una luce Wi-Fi quindi cosa fa io ho memorizzato questo pulsante sull'RF Bridge quando lo premo l'RF Bridge manda il segnale Wi-Fi alla luce oltre a essere usato anche normalmente come per esempio per memorizzare il telecomando di un cancello ovviamente deve essere un cancello non rolling code quindi tutti i dispositivi con unico codice io posso memorizzare il telecomando in questo RF Bridge e quindi io posso aprire i cancelli o le porte quelle elettriche o qualsiasi altro dispositivo che supporta l'RF usando il Wi-Fi quindi questo dispositivo traduce il Wi-Fi in 433 questo è una cosa in più ok dopodiché qui ho tutti gli altri dispositivi che posso comandare di casa mia quindi la finestra del bagno in questo momento è on questo è un sensore finestra il led del forno quindi posso accendere e spegnere i dispositivi da qua qui ho la mia telecamera e qui in alto lo sta il calendario e il meteo questo è utile perché ripeto se questa plancia la vado a mettere su un tablet ora vi faccio vedere sull'iPad posso poi per esempio appendere il tablet a muro e usare questa plancia per comandare casa mia quindi come vedete io qui ho tutte le luci e tutti i dispositivi che posso accendere e spegnere dalla mia plancia questa plancia è personalizzabile dal link che vi ho fatto vedere prima quindi da web.wilink.cc se fate edit voi potete anche spostare qui mettere in ordine che volete voi i dispositivi ok potete cambiare il nome della plancia e potete anche cambiare il colore per esempio la cosa è bella è che quando andate a fare una modifica quando tornate sulla plancia lui vi dice guarda che ho notato che c'è una modifica clicca su got it per vedere la modifica aggiornata e come vedete lui ha rimodificato la posizione dei tasti posso avere anche più planche quindi posso crearmi anche un'altra plancia dove magari voglio mettere soltanto la camera per esempio e una luce ecco faccio salva questa la chiamo plancia 2 gli metto un altro colore anche qua mettiamo ecco è comparsa anche qua la plancia 2 e qui ho soltanto i dispositivi che ho messo in plancia 2 quindi posso sempre avviare la telecamera monitorare lo stato della casa con la telecamera qui ho la possibilità vedete di mettere a tutto schermo una telecamera posso di nuovo vedere lo stato del mio condizionatore il dyking in questo momento è chiuso vedete close e la luce delle mensole che ho in cucina come vedete dalla telecamera si vede che si sono accese vedete qua si sono accese ecco questo è per ora questa interfaccia grafica ve la faccio vedere sull'iPad che è molto carina ecco io ho scaricato sul mio iPad ho scaricato sul mio iPad questo qui quest'app qui kiosk adesso vi metto l'iPad ovviamente poi dovete metterlo nei preferiti o comunque lo lasciate aperto in modo tale che ecco vedete qua ho aperto la mia plancia sull'iPad quindi avete la plancia tutto schermo senza le barre questa è la plancia 2 potete aprire tranquillamente la plancia principale che avevo fatto prima qui avete i vari pulsanti tutti i dispositivi sono off che hanno due canali per esempio questa placca qui ha due canali vi compare un'interiore finestra dove potete accendere o spendere un solo canale avete il calendario e il meteo quindi potete mettere le vostre pezze sul tavolo o peso ad esempio a muro e vi fate il vostro dashboard per gestire tutta la domotica di casa anche qua avete la telecamera ovviamente che potete avviare perfetto quindi detto questo possiamo andare alla conclusione ecco avete visto questo nuovo servizio di eWiLink che vi dà questa plancia web che potete sfruttare sui vostri tablet o sui computer per avere una plancia diciamo di casa per gestire tutta casa ovviamente compatibile solo con dispositivi eWiLink ma è una cosa semplice per chi non si vuole non vuole perdere tempo con Home Assistant fare le plancia di Home Assistant eccetera vuole una cosa semplice che ha tutti i dispositivi sono off lo può fare tranquillamente con questa web l'unica pecca dicevo che poi non è neanche una pecca sono i 9 euro all'anno che dovete spendere per fare l'advanced plan però l'advanced plan e questo è il link per fare l'upgrade vi dà tutta una serie di vantaggi perché potete pagare con Paypal però vi dà anche diciamo il supporto vi dà la possibilità di creare le webbooks potete integrarlo con IFTTT le EW-Link Camera le EW-Link Keyboard quindi vi dà tutta una serie di vantaggi che il plan normale di EW-Link non vi dà ecco questo è il sito per fare l'upgrade ve lo metto in descrizione questi sono tutti i vantaggi che vi dà l'advanced plan oltre al fatto di darvi però l'accesso a cast e link punto cc io vi ringrazio per aver visto il video vi invito a mettere un viaggio con i video di video iscrivetevi al canale ricordatevi che senza sistemista di informatica non funziona al prossimo iscrivetevi al canale Grazie a tutti.